Dramma bagnore dove nella serata di ieri una donna di 27 anni si è tolta la vita dare l'allarme è stato il marito al suo rientro a casa dopo la giornata di lavoro la donna di origine rumena era mamma di tre figli piccoli tutto il paese sotto shock per la notizia. Ai nostri occhi raccontano in paese alcuni cittadini era una famiglia tranquilla il marito un grande lavoratore persona conosciuta sulla miata lei una donna di famiglia che accudiva con amore i suoi figli. Grazie a tutti.